Ciao, sono Davide Ebrem, studente dell'Università John Cabot, studio Marketing e Imprenditoria. Oggi sono qui nella sede di Italgas Montemario e c'è un bellissimo evento, è praticamente il lancio di un Creatum più grande che avverrà ad ottobre. E' stato veramente interessante vedere come aziende del genere si stanno approcciando ai temi di digitalizzazione, sostenibilità, anche in un modo magari fuori dagli schemi rispetto ad altre aziende che si vedono in giro. Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con manager di altissimo livello ed è anche un'ottima occasione di fare networking, conoscere persone e creare delle nuove opportunità.